Il programma è ampio e molto intensa, comincia con Renga e finisce con Fausto Leari. Per avere tutta questa sinergia e mettere insieme un programma così ampio e così importante, quanto tempo ci avete iniziato? Allora, sicuramente l'investimento in tempo è molto importante, non solo la quantità di ore che dedichiamo a fare questo con qualità, ma iniziamo con molto anticipo a programmare questi eventi, anche perché, come dicevamo prima, le idee che vengono sono molte e bisogna incastrare molto bene questi eventi in modo tale di dare un palinsesto che sia molto diversificato e di altissima qualità. Gli uffici, su questo abbiamo già fatto e non lo faccio ancora, ringraziare la dottoressa Benigni e la dottoressa Taruffi che ci aiutano nell'organizzare e programmare questi eventi, perciò come tempo è molto tempo, ma con molto anticipo facciamo le cose. Per darvi un esempio, lei mi faceva una domanda prima sull'evento di fine anno, ovviamente oggi non ne posso parlare, questo evento di fine anno è dal mese di marzo che stiamo lavorando, in modo tale di poter avere un evento di capodanno di qualità. La ringrazio infinitamente. Grazie a voi, grazie a tutti.